Ditemi ragazzi, quali progetti avete per il futuro? A cosa possiamo ambire ora che abbiamo vinto il Football Frontier? Io ho un'idea ce l'ho, siamo diventati i numeri uno, giusto? Bene, allora dobbiamo continuare a dimostrare che siamo i più forti. Io penso che in giro ci siano davvero molte squadre che vogliono misurarsi con noi. Sì, tutte le squadre del mondo! Possiamo farcela! Lanceremo una grande sfida! E inizieremo fin da oggi un allenamento speciale!